Oktoberfest a Pescara Vecchia, il comune presenta l'edizione 2016 con un rinnovato entusiasmo dovuto al successo della scorsa stagione. Prodotti tradizionali bavaresi, birra artigianale e un cartellone di eventi per ogni serata prevista. Questa è una bella iniziativa che andrà in onda dal 29 al 3 ottobre, questa volta non riguarderà le tipicità, l'enogastronomia locale pescarese ed abruzzese, ma alle eccellenze bavaresi portando qui il marchio dell'Octoberfest, una manifestazione che unirà al cibo anche momenti culturali e di intrattenimento musicale, un buon modo in questo periodo di rianimare questa zona e di creare un evento importante che l'anno scorso ha riscontrato un grande successo di pubblico e di qualità. Piazza Garibaldi al centro dell'evento, la città sceglie il suo corso storico per quattro giorni che punteranno a superare le oltre 20.000 visite dello scorso anno. Ovviamente le carni, nella maggior parte, soprattutto quello degli stinchi, saranno di origine abruzzese, quindi a parte le tipicità dei Wuster che saranno ovviamente tedeschi e originali, le patate saranno quelle abruzzese del Fucino con grande probabilità e quindi abbiamo comunque un connubio tra Germania e Abruzzo. Noi ci aspettiamo sicuramente un successo più grande di quello dell'anno scorso che ha già visto oltre 25.000 presenze qui in Piazza Garibaldi divertirsi in allegria e in serenità.